al mio tre farò una imitazione piacevole del grande Serafino Massoni il professore che conosco ormai da molti anni persona a cui sono particolarmente legato di stimata fiducia e di grande intelligenza ma bando alle ciance 1 2 3 cari amici cari amici tanti saluti da Serafino Massoni oggi è il 18 marzo 2020 ho sbagliato scusatemi oggi è il 15 di marzo 2020 e oggi vi parlo delle mie opere una delle mie tante opere è la stirpe del serpente la stirpe del serpente un'opera storico mitologica che ha veramente narrato le gesta passate e che vi racconta il passaggio dal matriarcato al patriarcato cari amici di youtube ecco io vi chiedo di andare a leggere le mie le mie le mie opere io io ve lo dico cari cari amici di youtube leggetevi tutte le mie opere ve ne renderete conto che vi faranno bene e vi faranno non poco bene ma benissimo va bene va bene cari va bene cari ora però lasciatemi rispondere all'amico and 86 rea 19 and 86 rea 19 caro caro tu mi scrivi tante belle cose però però è bene che io ti rispondo in questo in questo video di oggi allora innanzitutto iniziamo a mettere i puntini sulle caro la la stirpe del serpente è un'opera mitologica e tu invece me la etichetti come un'opera non mitologica sai di chi è di ascetto di ascetto e chi è e chi è caro o caro e chi è il socio di maggioranza di 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 ascetto caro 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 amico caro e ma e bo e bo e bo e bo ma marco travaglio bu marco travaglio va bene caro ecco caro 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 non ti so dire cose così importanti per un caro devi sapere che il catalogo il catalogo della della scelta caro va bene va 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 bene caro o caro caro io ti dico una cosa caro io sono molto incassato un po incassato perché comunque non mi aspettavo queste parole caro and 86 rea 19 va bene caro va bene caro spero spero di averti fatto un monumento in questo video che ho realizzato per te va bene caro va bene caro va bene caro io vi ringrazio cari cari amici vi ringrazio vi mando un saluto virtuale e seppure spero spero che questo video vi arrivi e saluto anche l'amico anda866 rea 19 va bene caro buona serata da Serafino Massuni ecco ragazzi vi ho fatto un'imitazione piuttosto divertente è un'imitazione che viene che deve essere considerata come un omaggio a Serafino io lo conosco da anni ormai l'ho conosciuto qui a Roma è venuto tante volte qui spero che verrà in futuro ho parlato con lui tante volte è stato sempre meraviglioso nei miei riguardi mi ha anche offerto quando ci vedevamo un succo di frutta o un caffè al ginseng al bar una persona veramente straordinaria io vi consiglio di vedere i suoi video perché ancora non lo conoscesse si chiama Serafino Massuni su youtube trovate un sacco di video lui ha creato vedetevi perché vi aiuteranno vi amplieranno la mente e vi faranno non poco bene ciao da Leandro il conosciuto l'italiano